Ciao a tutti quanti amici di YouTube! Guardate il nostro bel mare verde! Guardate che meraviglia! Sta anche arrivando l'aereo! La meraviglia signori, la meraviglia! Eccolo là l'aereo! Eccolo lì! No, non lo vedo più! Non lo vedo più! Eccolo! E vabbè! Siamo al centro sportivo di Brusa Porto! Guardate che bello! Signora Maria! Eh? Saluti! Buongiorno! Buongiorno signora! Guardate! Tutti bene spero! Spera! Spera signore! Speri tutti bene! Sì! Forse tutti bene signora! Quasi tutti bene! Guardate intanto che bello! Riso perché ho mangiato il riso! Hai mangiato il riso adesso? Sì! Signora ma no! Lo stavo cucinando e lo si è dato! Salga il cucchia lì! Salga il cucchia lì! E l'ho finito! Brava! Brava signora! Poi è arrivato Paolo! E mi ha detto! Dov'è il riso? E' andato! E' andato! E' andato! Va bene dai! Salutiamo! Ciao a tutti! Ciao! Arrivederci! Ciao eh ciao! Musica Ciao a tutti quanti amici di Youtube Siamo io nel parchetto dei cani a Trescorre Infatti adesso vediamo dove è spettodimentato Smiley Smiley Eccolo Eccolo qua Guardate che bello Molto grande Pulito Ma che bel fresco Oddio al sole si cuoce Però è bello Finalmente è arrivata l'estate ragazzi Finalmente si C'è che bel palassetto che c'è qua davanti E' palazzoni qua di lì Miley vuoi salutarli amici di Youtube? No Non c'è niente da dire Ecco Qualcun fine Andiamo oltre Brucia spente così E' palazzoni Eccolo Perfetto Eccomi qua Guardate che roba Tutto un mondo in forno Ma va bene Ci vediamo belli Eccoci Questo qui E' il luogo Quello che vi dicevo Una leggenda Guardate qui che struttura Guardate che struttura Guardate che struttura Adesso ve la faccio vedere dal davanti Andiamo Andiamo dal davanti Eccoci qua Siamo dal davanti Guardate che roba Guardate che roba E mica tanto C'è davanti la La pianta Lo si vede in più Ecco guardate E' l'ingresso Ingresso Ma non se E' Non se Questo fa così Ti visto? Bene Ci riaggiorniamo dopo Amici di Youtube Ciao ciao Buonasera amici di Youtube Oggi ci ritroviamo Scusate Oggi ci ritroviamo qui A Trescorre Guardate che bello Noi ci rivediamo Sento ridere Ma non so chi è Ma non so chi è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vedete le mie spalle qua di dietro? Guardate che meraviglia. Avete visto? Le mie roba? Ecco, queste qua sono le mie vacanze qua fuori. Sono in compagnia del mio piccoletto. Aspettate. Faccio vedere. Andiamoci. No, non riesco a girarmi. No, non riesco a girarmi. No, vabbè, aspettate. Va bene, noi ci rivediamo. Non so quando, ma ci rivedremo. Ciao a tutti quanti amici di YouTube. Ciao, ciao. Signori, siamo davanti alla villa stregata. Guardate che bella. Signora, guarda che meraviglia. mi ha staccato la faccia. Guardate che bella. Va bene, amici di YouTube, questa qui è uno dei grandi misteri che abbiamo. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao. Grazie a tutti Grazie a tutti